In attesa delle prime amichevoli nel ritiro di Cascia, l'Avellino continua a lavorare sotto traccia per quanto riguarda il calcio mercato. La dirigenza bianco-verde è molto attiva sui due fronti, difesa ed attacco. Novellino è espressamente richiesto, un difensore di esperienza e il DS Enzo De Vito farà di tutto per accontentarlo. All'Atalanta, società in ottimi rapporti con quella erpina, è stato infatti chiesto Emanuele Swager, roccioso difensore centrale, la passata stagione al Bari. Se non dovesse tornare in Puglia, l'Avellino sarebbe in netto vantaggio per assicurarsi il giocatore. Per quanto riguarda l'attacco, invece, va sempre avanti la trattativa per Leonardo Morosini del Genoa, fatti passi in avanti per il talentuoso classe 1995, ma nelle ultime ore è spuntata anche l'idea a Filippo Falco, che tanto bene ha fatto al Benevento, abile a strapparlo all'Avellino nella scorsa finestra di mercato. Per l'attacco dunque al momento è corsa a due tra Falco e Morosini, con l'intento chiarissimo da parte di Novellino di avere a disposizione una mezza punta da affiancare a Dardemagni.